Invece è fantastico, qui è un'altra vila che ha fatto negli anni 90, giusto per dimostrare che sembra tanto piacere da fare anche l'architettura a scala piccola. Invece ha avuto l'opportunità e mi ha messo tanta energia a continuare una tradizione olandese che sta in questo. Questa è una pianta dell'estensione di Amsterdam negli anni 30 che è disegnata da Berlager. So che tutti di voi conoscete Berlager o dite Berlager. Ad Amsterdam per la borsa che è bellissima, mi è difficile assolutamente da visitare, però lui faceva anche urbanistica e non da poco. E' una propria molto importante. Questa cronologia urbanistica olandese, chiaramente con le asse, queste strade, disegnate tutte precise. Per esempio, questo angolino non è che non l'hanno costruito perché era finito i soldi. Ovviamente questa tendenza andava avanti nella scuola di Amsterdam, che conoscono anche tutti i turisti, perché è talmente particolare, è disegnato proprio nel piccolo dettaglio, l'infrastruttura insieme con le abitazioni. Ancora alcuni dettagli che senz'altro non li conoscete. Ma anche l'architetto Dudok, un bravissimo architetto sempre in quegli anni, conosciuto mondialmente per questo edificio, il Rathaus in Hilverson, assolutamente andato a vederlo, è bellissimo. Anche lui disegnava le estensioni delle città, senz'altro su scala più piccola, più adese magari, però sempre fino a piccoli dettagli, fino alle finestre, al ritmo, alla scala. Anche negli anni 70, questo l'esempio è a Eindhoven, un progetto si chiama Toll, un progetto di Fondopuk a Bacama, sempre uno studi di architettura, in cui anche qua ovviamente è molto chiaramente l'operistica olandese abbastanza rigida, che in quegli anni era veramente, tutti volevano vivere lì, con tipologie di abitazione, quindi anche qui andavo fino all'architettura, con i corritori che saltavano ogni due piani per dare accesso alle abitazioni. Questo è molto velocemente per far entrare come anche lui, il suo lavoro è costruito. Questo è un primo progetto più o meno nella sua esperienza, ma era quasi anche una delle prime esperienze olandesi per fare un sviluppo territoriale, quindi non un piccolo pezzo di città, ma proprio una nuova partita, nuove zone della città. Questa era quindi tutto un porto industriale che oggi sono trasformato a questa, anzi questa foto è già un po' datato. Yo Kuhnen ha sviluppato questa parte che si chiama Kale Zem Island e senz'altro lo conoscete già come piano urbanistico, che non lo vado a trattare, che magari è per anni noioso. Comunque a questa assa principale, l'Avenue, con alcuni punti di landmark, di grande attenzione, attorno ad edifici residenziali che anche lì ha sempre una misura precisa. Poi alla fine c'è questo blocco che si distingue tanto perché è la fine dall'isola e questo l'ha disegnato lui come architettura. Questo è uno schizzo molto futuristico, però la realtà è diventato questo. Quindi nello schema della città che possiamo quasi definire, senz'altro per i olandesi, classico, con i blocchi cortili, molto europei, disegna lui stesso come architettura, un'architettura molto più contemporanea. Venezio, si chiama, si, lungo l'acqua, ovviamente sono delle posizioni. È un po' una macchina dell'abitazione, questa è costruita nel 88, credo, quindi è già pochi anni fa, però tutte le abitazioni hanno una vista fantastico. Volevo farvi vedere un altro progetto già un po' datato, però molto interessante anche per questo tema, che è The Violence Land in Bayern. È una strada in una zona sociale molto, molto difficile, molto conosciuta in Olanda negativamente. e è stata molto forte perché con la riqualificazione di questa avenue, questa strada, con solo questa asse, ha potuto aridare socialmente e con l'architettura, per qualità di architettura, delle nuove vite, un nuovo ambiente in tutta questa zona. assolutamente, adesso oggi ci passi, passi tranquillamente qua, non c'è problema. Quindi anche qui guarda com'era la strada originalmente, guarda dietro, guarda in futuro, e ha sviluppato un sistema, un abaco di facciate che si poteva modulare da soli. molto interessante perché così i costi per costruire sono rimasti quelli che erano, perché è tutto poi in cemento prefabbricato, quindi i battoni. Quindi qua era proprio sviluppato un sistema per costruire la strada, se c'era bisogno di negozi, apertura oppure no. e così hanno ricostruito tutto questo lago. Qua un po' di foto appena costruita, anche per il cantiere. Però si vede, tra l'altro, un'interessante apertura di finestre. Gli olandesi, soprattutto negli anni Ottanta, assolutamente lo sapevano disegnare i buchi delle facciate, però prefabricati, social housing. Il prossimo progetto è Sfing Sina Vite, come diceva anche già Paolo, è molto conosciuto, Yoku. Però lo stesso è ancora uno dei suoi progetti molto importanti, dalle sue esperienze che ha fatto. Vediamo una foto dalla zona come era, quindi era tutta una 23 ettore di industria che una volta hanno tolto tutto. Quando hanno comprato il terreno dal proprietario, dal direttore di questa fabbrica, hanno chiesto al, allora il giovane Yoku, di disegnare un piano per un nuovo quartiere. E non poteva nemmeno visitare il posto, perché sennò il direttore potrebbe avere il naso dal fatto che magari aveva tanto valore. Quindi i primi schizzi che qui vediamo li ha disegnati proprio nel suo piccolo studio che allora lo abbiamo ancora, da una foto dall'aria. L'importante da far vedere quello che ha fatto è proprio di vedere come collegare questa nuova zona, questa qua la 5.7, con la città esistente. Ovviamente qua non hanno desegnato tutta una città, ma i percorsi principali pubblici. Quindi qua è la Market Square, qui c'è una grande piazza famosissima, una stretta con la chiesa, e qui c'è un'altra piazza deliziosa con un'altra chiesa importante. E ha concluso subito che ci voleva un'altra collegamenta sopra il fiume, un ponte. Questo appunto l'hanno anche realizzato, ci ha dovuto parlare tanto con tutti, però era più che altro è importante far vedere queste immagini perché Gianni Vistizia aveva preso posizione che fino alla fine li ha contenuto. O mai che questo verde, che magari vediamo meglio in questa immagine, questo verde ha avuto tanti problemi con i developers perché qui i developers avevano pensato di avere delle belle abitazioni, delle torre che addirittura stavano magari sopra l'acqua, sopra il fiume de Mars. Invece per gli ogubi era molto importante da specchiare il verde, questo è un parco importante all'estate, dall'altra parte del fiume. Giusto perché già nella memoria da tutte le persone che vivevano la città, questo percorso era già esisteva già prima era a lungo le mure dalla fabbrica, quindi a domenica qua passavano le persone e ancora oggi possiamo vedere che lo fanno. grazie. Grazie. Grazie.